numero 5 con la sua lama x taper blade questo tagliacapelli panasonic offre una qualità di taglio superiore e un risultato senza precedenti una delle caratteristiche che lo rende così speciale è la sua capacità di evitare le antiestetiche striature durante il taglio grazie alla lama il taglio risulterà sempre impeccabile e senza difetti non dovrai più preoccuparti di dover rifinire il taglio per nascondere le imperfezioni perché con questo tagliacapelli otterrai un risultato professionale fin dal primo utilizzo se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 4 questo tagliacapelli reminton quick cut è una scelta eccellente per coloro che cercano un taglio dei capelli uniforme e rapido ha un'ampiezza di taglio superiore alla media grazie alle sue lame di alta qualità garantendo risultati precisi e professionali una delle caratteristiche più notevoli di questo dispositivo è la sua batteria al litio con opzione di ricarica veloce ciò permette di utilizzarlo senza preoccuparsi di doverlo ricaricare frequentemente perfetto per coloro che sono sempre di fretta inoltre la batteria può durare per un periodo di tempo considerevole consentendo di fare diversi tagli senza problemi in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 3 quando si tratta di trovare il tagliacapelli perfetto il reminton genius è sicuramente una scelta intelligente con le sue lame in ceramica resistenti e facili da pulire questo strumento è progettato per offrire una perfetta precisione di taglio una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è la sua versatilità puoi impostare facilmente la lunghezza del taglio desiderata da 0,8 a 2 millimetri grazie alle lame regolabili inoltre con i 10 pettini in dotazione puoi tagliare i capelli con intervalli da 3 a 40 millimetri permettendoti di creare look personalizzati e adattarli al tuo stile trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 questo di philips è senza dubbio un tagliacapelli rivoluzionario che offre una piacevole esperienza di grooming con le sue due testine intercambiabili e le lame in acciaio inossidabile è il compagno ideale per ottenere tagli precisi e uniformi una delle caratteristiche che lo rende davvero conveniente è la facilità di pulizia basta semplicemente sciacquare le lame sotto l'acqua corrente per rimuovere i residui di capelli questo ti permette di risparmiare tempo prezioso e di mantenere il tuo tagliacapelli sempre pulito e pronto all'uso puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 questo tagliacapelli serie 9000 della famiglia philips è sicuramente un prodotto all'avanguardia nel mondo dei tagliacapelli con la sua tecnologia avanzata e le sue caratteristiche uniche questo prodotto ti consentirà di ottenere la migliore esperienza di rasatura possibile ciò che distingue questo tagliacapelli dagli altri sul mercato sono i suoi tre pettini che offrono ben 400 diverse lunghezze di rasatura questo ti dà la possibilità di scegliere il look che desideri che tu voglia un taglio corto e pulito o un stile più lungo e strutturato in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto